Pettinari, problema allagamenti in alcune abitazioni di edilizia popolare del quartiere Fontanelle, abitazioni che di recente sono state ristrutturate. Che cosa è accaduto? Hanno iniziato i lavori e con le piogge si sono dovuti interrompere. Ed oggi la situazione è peggio di prima perché hanno smantellato i balconi, quindi non c'è più nemmeno quella minima copertura che c'era prima e piove dentro casa. Quindi le case sono completamente allagate. Una situazione vergognosa. La Regione Abruzzo e l'Ater non sono stati in grado di programmare questi interventi. I cittadini stanno subendo dei danni pazzeschi. Noi abbiamo visitato, abbiamo visto, la situazione è tragica. Chiediamo alla Regione di far ripartire immediatamente questi lavori. Si devono inventare qualcosa perché i cittadini in quella situazione non possono più stare. Naturalmente stiamo parlando di cittadini onesti, cittadini seri che si alzano la mattina a spaccare la schiena. Noi abbiamo fatto sempre battaglie per loro, non per i delinquenti criminali che devono essere sbattuti fuori dalle case. Ecco, per queste persone quindi la situazione è tragica. Vediamo quello che succede. C'è un rimbalzo di responsabilità tra l'impresa che sta eseguendo i lavori e l'Ater. Ognuno si rimbalza di responsabilità ma pagarle nei conseguenze sono i cittadini. Adesso sono 50 abitazioni. Ma perché hanno iniziato in 50 abitazioni e poi si sono interrotti? Ma ce ne sono tante altre nelle quali devono ancora iniziare i lavori. Quindi dove iniziare i lavori piove dentro peggio di prima perché hanno scoperchiato e non hanno ricoperto perché non possono ricoprire. Ci hanno spiegato che la coibentazione non si può mettere mentre piove. Quindi è una situazione veramente pericolosissima. Anche si stanno staccando degli intonaci quindi sono pericolosi per la pubblica incolumità.